Ma lo sapete che hanno avuto un'idea? Che idea? Che cosa? Hanno fatto un'app Un'app Scusate in ritardo ma che cos'è un'app? Si vede che stai sempre sui libri Dai un'app, Whatsapp, Facebook, quella roba lì Si chiama Pregaudio E come funziona? Funziona così, puoi pregare dovunque ti trovi, anche in macchina In macchina? Ma non è pericoloso? Devi solo ascoltare Bellissima, ma quando parte? Aggiornati, è già partita Grazie a tutti